Nel libro mi sembra che emerga una consapevolezza nuova di come la Chiesa, nelle sue varie articolazioni, ha fatto proprio gli strumenti della comunicazione digitale per la sua missione e per la comunicazione della propria vita. C'è bisogno di contributi pratici, come quello di questo libro, che ci insegnino ad utilizzare gli strumenti non nella direzione di un mondo sempre più individualista, ma come mezzi per attirare alla vita concreta della Chiesa. Oltre a riflettere sul rapporto fra virtuale e reale, a scoprire le opportunità offerteci dal web, il libro indica come un certo utilizzo dei vari social possono aiutarci a condividere, alimentando così il senso della comunità. Grazie per la visione!